Noi dobbiamo trarre alcune conseguenze, noi dobbiamo capire che le cose vanno male perché le regole del gioco sono sbagliate. C'è questo sentimento popolare di cui si è avvertito il fermento quando a seguito del problema del fenomeno di Tangentopoli si è proposto di fare una seconda Repubblica e poi una terza Repubblica perché il sentimento popolare avverte dei messaggi di verità in modo molto più forte che non il politico o l'uomo di cultura, di dottrine economiche e sociali. Perché quando il problema viene sofferto sulla propria pelle si ha una carica di comprensione del dramma che stiamo vivendo, questo dramma che non si chiama ormai più democrazia. Dobbiamo cominciare a capire, la parola democrazia che era nata sette secoli prima in Grecia non una volta è usata nel Vangelo. Perché? Perché il principio della democrazia è un principio che basa sulla legge del numero e il numero è finalisticamente e moralmente neutro. Noi abbiamo bisogno di tornare a un concetto di società organica. Che cos'è la società organica? È la spinta culturale, questo sentimento popolare che ha proposto a suo tempo l'alternativa della seconda repubblica come è stata chiamata e che poi non ha avuto esito. Perché? Perché i mass media si sono preoccupati di questo sentimento e quindi hanno placato le acque. Noi però abbiamo tenuto fermo questo messaggio, il messaggio che viene dato all'apertura di questo nostro servizio. Oggi la moneta nasce di proprietà della banca che la emette prestandola ai cittadini. Noi vogliamo che nasca di proprietà dei cittadini e che sia accreditato da noi uno come reddito di cittadinanza. Che significa moneta di proprietà della banca? Andiamo un momento in profondità per capire il significato di queste parole che ormai sono entrate per la prima volta nel linguaggio corrente. Quando noi parliamo di proprietà della banca, significa che la banca all'atto della moneta ci presta i soldi nostri. Chi crede della moneta siamo noi e non è chi la emette e noi non l'accetta. Ricordo sempre e spesso l'esempio dell'isola deserta per cui se mette a stampare in un'isola deserta la moneta non nasce il valore perché manca la collettività. Questa è la prova che chi crede della moneta non è il governatore della banca centrale ma i cittadini. Evidentemente su questa premessa noi dobbiamo cominciare a capire alcune conseguenze. La prima conseguenza è che dobbiamo toglierci dalla mente la fissazione che quello che noi paghiamo di tasse vada utilizzato per scopi sociali, cioè per sopperire alle esigenze dello Stato, dei servizi dello Stato. La verità è ben altra perché noi sappiamo che la Banca d'Italia è una società per azioni ed è una società privata con scopo di lucro, tant'è vero che numerosi azionisti sono stranieri. Recentemente tra gli azionisti della Banca d'Italia è entrato a far parte anche un gruppo di arabi, quindi il fatto di chiamare società per azioni, questa società privata per scopo di lucro, chiamarla Banca d'Italia è un'espressione impropria perché quando noi abbiamo capito che è una società privata per scopo di lucro dobbiamo anche capire che il guadagno di questa società privata consiste nella differenza tra il costo tipografico e il valore nominale della moneta, cioè la Banca prende un pezzo di carta, lo stampa al costo di poche lire, poi dice vale 100 mila lire, vale 500 mila lire. L'utile della Banca d'Italia è la differenza tra il costo tipografico e il valore nominale della moneta, ma non basta, perché questo valore poi è raddoppiato, perché la Banca emette la moneta non solamente acquisendo noi la proprietà, ma indebitandoci all'atto dell'emissione. Naturalmente questo vuol dire che dopo averci espropriato dei soldi nostri ci indebita di altrettanto. Che cos'è allora il preo fiscale? Preo fiscale significa che i soldi che noi paghiamo in buona parte vanno a finire nelle tasche degli azionisti della Banca d'Italia che sono in gran parte degli stranieri. Allora cominciamo a capire quali sono le attuali regole del gioco. Noi purtroppo ci troviamo a dover sopportare un regime in cui chi comanda non è il politico in senso stretto, ma è l'usuraio, e l'usuraio è il padrone del sistema bancario attuale, perché la moneta viene emessa prestando. Io ho sottolineato che la differenza che c'è tra il Governatore della Banca d'Italia e il sindacato anti-usura quando emette i sime che c'è la moneta locale, che mentre la banca centrale stampa e presta, io stampo e do. Quando io stampo e do vuol dire che il proprietario della moneta è il portatore, questa moneta nasce di proprietà dei cittadini.